Come personalizzare la scheda cliente I dati aggiuntivi forniscono ulteriori informazioni riguardo ai clienti, informazioni che però risultano fondamentali per l'esercente che desidera instaurare rapporti duraturi con la propria clientela attraverso le strategie di marketing offerte da Pluto 3.0. Per creare un dato aggiuntivo, dal menu Clienti cliccare su Impostazioni e poi ancora Dati aggiuntivi. Comparirà l'elenco di tutti i dati aggiuntivi presenti nel database. Per creare un nuovo dato, cliccare su Nuovo, inserirne il nominativo e scegliere il tipo di dato. In questo caso è il menu a tendina. Inserire quindi le varie opzioni desiderate come illustrato nell'esempio. Cliccare su Crea e il gioco è fatto. Da questa schermata è inoltre possibile modificare o eliminare un dato aggiuntivo. In questo modo, ogni volta che il cliente tornerà presso il nostro negozio, sapremo già che prodotti offrirgli o, eventualmente, invitarlo ad approfittare di offerte adatte alle sue esigenze. Pluto 3.0 Soluzioni per la fidelizzazione del cliente Soluzioni per la fidelizzazione del cliente Soluzioni per la fidelizzazione del cliente